Sì, grazie. Ho detto che l'assessore Grieco ha fatto di recente un suo prologo a Ulla, quindi lo ringrazio anche per questo, perché lì si vive proprio una situazione d'emergenza, c'è un'emergenza di edilizia scolastica a partire dalla Luligiana. E finché non ci si va di persona non se ne può rendere conto fino in fondo. Quindi questo è un bel segnale, spero che sia l'inizio di un percorso di attenzione riguardo a questa situazione, che richiede risposte. La Regione non può limitarsi a erogare finanziamenti senza poi verificarne l'efficienza del loro utilizzo, la congruità, e quindi bisogna fare un ulteriore sforzo. E' clamorosa la risposta sul fatto che il Presidente Rossi abbia dichiarato nell'aprile scorso che i lavori sarebbero stati ultimati entro cinque mesi, quindi a settembre, perché appariva imminente la conclusione. Ora, io ci sono stato diverse volte, basta andare là, fare un sopralluogo e vedere che non era, non appariva imminente la conclusione di queste opere, perché non c'è niente, non c'è nulla. Io ci sono stato a maggio, ci sono stato a luglio e anche ad agosto. La situazione è particolarmente vergognosa, probabilmente noi stiamo cercando di capire se ci sono eventuali responsabilità anche delle amministrazioni locali, perché è inaccettabile che si continui a spendere 26.000 euro al mese per noleggiare dei container. Con i soliti soldi avremmo potuto costruire delle scuole in bioedilizia. Quindi, bene la risposta, noi continueremo a attenzionare l'assessorato. Grazie.